Quest'anno per la festa delle donne, noi uomini di Sirkazen, abbiamo voluto fare gli auguri alle nostre super colleghe in modo speciale. Abbiamo deciso di metterci nei vostri bannini per esprimere ciò che vediamo in voi ogni giorno, ma che spesso non diciamo abbastanza. Ammiriamo la vostra forza nei momenti difficili, la vostra resilienza quando molti mollano, la vostra costante presenza come parte integrante della squadra, la vostra sensibilità ed empatia, la nostanza, la forza, l'amore, la tenizione, l'energia e la consapevolezza con cui affrontate gli si chiede ogni giorno. Siete una risorsa fondamentale per tutti noi e per dimostrarvelo abbiamo creato questo video dedicato interamente a voi, ma ci siamo riusciti un po' a modo nostro. Ciao! Ciao! Ciao!